Il viaggio tra le discariche a cielo aperto in città e periferia prosegue tra le vecchie e nuove fermate dell'inciviltà e dell'incuranza della gente. Dal porto alla pietraia, da Maria Pia a Lido, esistono angoli di degrado e sporcizia a pochi passi dalle case, le spiagge, gli alberghi e gli ospedali. La città che risponde positivamente alla raccolta differenziata è la stessa che mostra un triste e insalubre spettacolo ai turisti che fotografano e riprendono i cumuli di spazzatura come una cartolina o un'immagine non degna dei paesaggi della riviera del Corallo.